I tuoi occhi hanno bisogno di aiuto? Da Ottica Salomi disponiamo di una struttura moderna, di ultima generazione, in costante aggiornamento. Controllo visivo in sede e da oggi anche a domicilio grazie alla nuova tecnologia portatile. Il nostro laboratorio interno garantisce velocità e precisione. Tutto l'applicazione lenti a contatto. Da Ottica Salomi sono specialisti. Lorenzo, ottico optometrista. Simone, ottico optometrista. Martina, ottico optometrista. Daniela, responsabile della comunicazione. E ci sono anch'io, Pierluigi, responsabile di marketing. E la mia assistente. La mia ritora! Ottica Salomi, passione di famiglia. Lecce, via Imperatore Adriano 26, unica sede.